Ciao a tutti ragazzi, io sono Luigi Nerazzurro, dopo tanto tempo si torna a fare un video Di che cosa parliamo oggi? Di due ufficializzazioni da parte dell'Inter nazionale Milano La prima un po' più vecchiotta e ufficiale, Edin Dzeko è la nuova punta dell'Inter Sono molto contento al di là dell'età, che se ne voglia dire, che è grande, che è anziano Edin Dzeko fa la prima punta, prima punta vera, sta là davanti, sa dove si trova il pallone, la deve mettere dentro Ha la stazza per poterlo fare in volo, ha fatto benissimo al City, ha fatto bene alla Roma Un grandissimo attaccante e nulla può dire niente su questo, sulle qualità di Edin Dzeko E' ovvio che mi piacerebbe vedere un altro acquisto importante in attacco per il discorso età Perché magari non può fare campionato, non può fare Champions, non può fare Coppa Italia Perché all'età che ha ci sta, che non ha questo ritmo partita così elevato da giocare una partita ogni tre giorni Quindi mi aspetto un altro attaccante, si parla da tanto tempo di Lukaku Speriamo, speriamo perché è un bel giocatore Lukaku L'altro nome importante che è stato ufficializzato finalmente è Lele Oriali Lele Oriali sarà colui che farà da collante tra lo spogliatoio e la società Tra lo spogliatoio e la sala stampa Un po' come faceva nell'Inter di Murigno Di cui tutti noi abbiamo dei bellissimi ricordi Quindi ci aspettiamo grandissime cose dall'Ele Oriali Ci aspettiamo di tornare lì dove ci spetta e grazie a Lele Insieme a un grandissimo allenatore Insieme a un grandissimo dirigente che è Marotta Insieme a una grandissima società Perché Suning si sta dimostrando una società con le palle quadrate Una società che se ne sentite dire di tutti i colori Perché non faceva chissà quale mercato Semplicemente per rientrare nei conti Ed è la cosa migliore oggi come oggi Ci sono un sacco di società che sono indebitate Che sono rovinate E ve lo dice uno che a parte l'Inter ha nel cuore il Palermo Che in queste ore se la sta vedendo veramente brutta E se ne dicono di ogni Meglio fare così Stare 5, 6, 7 anni Il tempo che ti serve per riprenderti economicamente Prima di rilanciarti come ti spetta Perché se ti vuoi rilanciare Spendere soldi che non hai Magari non vinci un cazzo Poi ti ritrovi pieno di debiti Affossato E devi pagare penali su penali Quindi io sono contento del lavoro che ha fatto Suning Sia prima e soprattutto ora Il nome Inter è sempre più importante Il nome a livello di merchandising A livello di sponsor Sta diventando sempre più grande E questo è tutto merito Della società che è veramente seria Perché Steven Zhang sta dimostrando di essere Un presidente con le palle Suo padre pure Tutti quelli che accusano il padre di non esserci Bene Non è come pallotta Perché pallotta è il presidente della Roma E non è presente Il nostro presidente è Steven Zhang E anche se è il figlio ed è giovane C'ha due coglioni quadrati Più grossi dei miei E di tutti i vostri messi insieme Non ci serve il padre Il padre per carità dirà la sua Si confronterà col figlio Ma la società è del figlio Quindi non è vero che abbiamo un presidente assente Anzi abbiamo un presidente molto presente Che ci tiene all'Inter E che sta facendo di tutto Per portarla a diventare grande Negli anni Perché non si può pretendere di vincere tutto E subito Se vuoi diventare grande Lo farai con gli anni E lo hanno dimostrato anche altre società Che sono cresciute E si sono rivelate vincenti Con i loro programmi a lungo termine E non a breve termine Chi vuole vincere a breve termine Se non ci riesce Si ritrova con le pezze al culo E fallito E purtroppo Ve lo dice uno Che nell'altra esperienza Nell'altra passione calcistica Viene da Zamparini Che puntava a vincere subito Non ha vinto un cazzo Si è ritrovato indebitato Ci ha lasciato nella merda più totale E adesso ci stiamo barcamenando Per non andare in serie dilettanti Quindi quella è la situazione del Palermo Questo è il canale dell'Inter Praticamente sono i due opposti La perfezione societaria Quella dell'Inter E dall'altro lato Come si finisce Se non si tiene bene una società Perché purtroppo Ricordiamoci ragazzi Che oggi come oggi Le squadre di calcio Sono in primis Società per azioni Che devono avere un entroito Devono avere un guadagno Se non hanno un guadagno Sono sotto Sono in passivo E le società Non possono essere in passivo Non lo dico io Lo dice la legge Quindi ragazzi Su questi due nomi Importanti Uno Per il futuro imminente Uno Due anni Genco Quello Però a noi serve per quello L'altro Fino al 2022 Lele Oriali Affiancherà il nostro Nuovo mister Di cui voi sapete Che io sono veramente contento Antonio Conte Marotta E tutti quanti Ragazzi Io mi aspetto Un Inter No che quest'anno Ti vince lo scudetto Ma si sta montando Un Inter Si sta creando Un Inter Vincente Da oggi Al futuro Quindi ragazzi Io su quest'Inter Sono veramente soddisfatto Dell'arrivo di Gekko Sono contentissimo Dell'arrivo Dell'arrivo di Oriali Sono contentissimo Io oggi Non ho altro da dire Aspettiamo nuove Conferme di mercato Perché se non ci sono Conferme di mercato Io video Non ne faccio Perché parlare del nulla Non mi va L'ho già fatta questa minchiata Con Modric E non è arrivato Quindi non la farò mai più Questa cazzata Io parlerò Quando un giocatore Un dirigente Qualsiasi cosa Sia ufficiale Dell'Inter Quindi ragazzi Io vi saluto Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Di Luigi Nera Azzurro Se siete interessati Perché capita E ce ne sono tanti altri Se siete interessati Anche alla causa Palermo Iscrivetevi a Luigi Rosanero Io vi saluto Nel bene e nel male Sempre Forza Inter